Ragazzi bentornati, siamo di nuovo nella casa della paura. Allora, ok c'era quel tizio che ci voleva dietro. L'hai sbloccato. Io lo sapevo ragazzi, io ho capito che posto è questo. Ok, allora, dov'è che ha detto che possiamo scappar? Non ho capito mica. A quel tizio? Si è dato? Ria, io non ho ancora capito che cazzarola si stava in mania, comunque che schifo. Ma quindi fatemi capire. Corda collare cane, collare per cane, guarda è sega. Mazzisordio. Ah, hanno preso un botto. Fantastico. Ma chi è? Apri. Ma chi è questo? Polizia. Assolutamente no. Troppo fagile. Vabbè, questo è stupido. Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. No, vabbè, ma questo è uno scemo. Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetta, mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice-sceriffo. Ok, va bene. Vice-sceriffo mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccio presto. Vado al garage. Adesso! Vabbè, ma scusa. Che me ne faccio di un coltello? Ma non ti rendi conto? Cioè, è una casa tutta sbarrata. Sto visibilmente chiuso dentro. Eh, ti avrei aperta la porta d'entrata se potevo uscire, no? Andiamo qua. Vado su. Ok. Oh. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Vai, correte via. Lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederò a me. Questa fase... Domande stupide, ecco. Ehi, ehi, si fermi! Aspettiamo per subito. 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 E dai! Ma dai! Ma è già morto, amico mio. Ah, diavolo. Io uccidero tutti a più. Tu lo staglierai. Tu ti uccidi. E io mi rimetto subito. Dai! Madonna, ma che c... Ma che sei io Ma che cosa sei Oh no 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 Mico mio mio Mico preoccupami Non è successo niente A parte entrare via Crack la macchina Perché non mi pare neanche il caso Sono deficiente Ragazzi sono deficiente Perché sono Ok A parte che ho fatto benissimo però così piano funziona meglio questa ci torna utile avevo capito che sparai in faccia non servo a nulla ah ecco le chiavi dalla macchina allora dove si riuscì tipo a farla allontana un po attivo non esiste più nessun via 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 veloce 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 sei cibo però veloce non provarci capito signori no ma se non stro vabbè non vivi scappa pigliano scappa ma e chi era farlo oh 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 scarpinho dove vado va work Infatti ha fatto Ma dove scappo Sono morto che si Regà Ma Tori fa tutto Si Ma facciamo che salto rapidamente Al punto dove arriva L'amico Oh eccoci qua Subito le chiavi Stanno qua E non ti mi sa prendi oh euhi oh dai 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 veloce 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 veloce! apro l'abricamaggio parti 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 accede oh merda quindi Quindi? Eh ma quindi? Ok, il garage non si è avanti. Io sono sentito a terra. Oh 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 oh. Ma un'azione? Che cosa sta? Ma ragazzi? Ma spara io? Cazzo! Facciamola finita, tu e io! Ma vabbè, ma... Oh sì, adesso facciamo un bel gire! No, 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 no! Cazzo! Sono morto malissimo. Lui è morto malissimo. Ma io non mi vuoi... Sì, ma qua, ragazzi, se la senta la follia, vera? Ma che sta succedendo? Allora, intanto abbiamo la munizione. Lui è vivo, però... Questa scoppia, questa scoppia, sicuro, sicuro. No, vabbè, no, ragazzi, no, no. Oh, ragazzi! No, hai rotto le palle, come le chiami, Jacob, no, come... E' una debilità qui, lo sa! Ecco, non dov'è scoppiare. Eh, dai, eh! Alza, te li danno, dai! Dai, vai! Dai, su! Vabbè, ragazzi, questo te li alza, lo sapevo. Ah, sta scalando, l'avevo visto! Ma prima non c'era. Sali, però. Eh, eh. Adesso ho la tua attenzione. Tra poco ne vedrai, vede, vede. Cazzo! Ok, ragazzi. Oh, segretuscio. Ok, l'avevo già vista, sta statuetta, da qualche parte. Forse la porta quella... C'è una grossa porta all'entrata. Diciamo verso l'entrata, magari. E infatti. L'avevo detto, io c'è andata la statuetta. Cosa ci sta qua dietro? Oh, schifo, sicuro. Che non te apri? Mamma mia, apparentemente non c'è. Sparami, sparami. Non mi fa affatto piacere sta cosa. No, decisamente non è questo quello che dobbiamo fare qua. Oh! Rispondiamo al telefono, vediamo... Chi sarà? Pronto? Te l'avevi sta brutta con mio padre. È tuo padre. Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... Beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Eh? Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Allora... Chi è sta tizia? Che vuole da noi? Visto che probabilmente sembra che voglia aiutarci. Perché non lo fa un pochino più concretamente? Ma per niente inquietanti, sti quadri, eh? Ho sentito... Oh, 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 oh! È qua la vecchia? Oh, oh, oh! Andate usci da fuori? Non c'è stata prima. Signora... 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 Salve... Non mi posso fare niente. Quella è cosa? È... Come si chiama? Carmela, come si chiamava? Sono estremamente tentato dallo... Sparargli. Però... Penso che non lo farò. Non te lo sia una buona idea. Ok, allora, facciamoci strada. Vamo. Tiro. Sto gioco come sta a far venire la paranoia. Ecco, là... E io lo sapevo. Ma fai schifo proprio. E niente, ce l'hanno. Si riveste proprio questo. La famiglia è solo una parte del suo dono. Ma qua anzio posso... Da vecchia, no! Ecco, non viene stavanguardia. Del consiglio che mi hai dato, Ciccio. Ma io... Vorrei capire una cosa. Oh, mia? C'ha scritto mia sulla cassetta? Io vorrei capire una cosa. Io coro. Questo cammina. Ma come cacchio può essere messo sempre dietro? Dove diavolo credevi di andare, figlio? Appiccicato dall'altro. Ok, per il momento sta per terra. Per medikit. Io sta vecchia, regà. Non la leggo più. Sì, 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 sì. Questo può... Può ricordare un uccello. Allora, aspettate. Dai, eh. Dai, eh. Che l'ha costruita? Ma dai, ma perché io là non mi c'è un filo? Ragazzi, io là non mi c'è un filo. Allora, abbiamo trovato una videocassetta su cui c'è scritto mia. Eh, vorrei andarla a visionare da qualche parte. Prepariamo se perché tanto qua. Ma che è sto posto? Mamma mia, ragazzi. Oh, che è? Che cacchio sei qui? Oh, ma puoi morire? Puoi morire? Puoi morire? È morto. Sì, lì è morto. Zona franca, ragà. Dite me di sì. Eh, ha molto alla Devil Within, eh, che musichetta. Ok, ragazzi. Direi, salviamo la partita. Salviamo la partita. Ne abbiamo viste abbastanza per oggi, eh. È stata intensa. Abbastanza ricca di sorprese, anche questa sessione qua. Ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video, ovviamente. Al prossimo gameplay. Dopo di questo video uscirà un nuovo episodio di Star Wars. Quindi non ve lo perdete, ragazzi, mi raccomando. Vi do appuntamento alla prossima. E vi saluto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.